Il programma è semplice e immediato e direi che è un programma obbligato dagli eventi, che obbliga il Governo e il Parlamento a dare risposte vere e concrete sul piano vaccinale, risposte vere e concrete sul recovery plan, su tutte le misure di carattere economico e sociali che non possono essere rinviate e che pretendono risposte immediate.